Allora ragazzi, come abbiamo provato, voi siete frati e cantati in coro. Vi voglio intensi, commossi, mistici. Ma c'è lì, detto mistici. E me va di mistici, è il formacino. Era quello come un sergio. Motore! Hai partito? Ciak! Il ritorno di Padre Pio, episodio 12, 71 prima. Azione! Regina peccatorum, illumina il lato oscuro del nostro cuore. Pronto, siete sento. Amen! Sono partito! Arma letale è nato subito in testa! Non sai quanto cuore! Che Dio il benedica! Nei secoli dei secoli! Ma che stai a pregare? Non sta a fare una fiction, ma tu non ti preoccupare. Vai tranquillo. Nel lato dei cieli! Stiamo ai 500 metri! Arma è sempre primo! Ha staccato tutti! Pare un proiettile! Gaudemus conspiretos santi! Mancano 300 metri! Stiamo a vincere facile! Gloria in excelsis Deo! Stiamo ai 200 metri! 100 metri! Cori! 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 Stiamo! Ma me sto giocando pure Giri e Leiso! Fregionata! Ma chi mi hai portato? Caccialo via! 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 Grazie a tutti.